Domani affrontiamo una squadra che è in super forma, è una squadra che ha cambiato quattro giocatori rispetto all'andata, ha cambiato allenatore e l'ho vista giocare secondo me in questo momento compete con squadre che stanno in zona playoff, anche se la loro classifica è diversa e quindi sarà una partita difficile perché l'avversario è un avversario forte. Adesso in questo momento i ragazzi sono molto vogliosi perché sanno, sappiamo tutti, che il margine d'errore è ridottissimo, non possiamo più commettere tanti errori ed ogni opportunità è oro per noi e quindi sono molto concentrati i ragazzi perché vogliono far bene, vogliono finire questo campionato nelle ultime undici partite bene, vogliamo comunque arrivare nella zona playoff che per noi sarebbe importantissimo. E quindi vedo la squadra molto concentrata, consapevole anche del fatto che abbiamo pochissima margine d'errore, abbiamo già commesso degli errori e quindi non possiamo più sbagliare se vogliamo fare un finale di stagione importante. Visto che spesso tu hai parlato di un percorso da fare, pensi che questo percorso abbia bisogno per essere completato di un'altra stagione? Assolutamente sì, perché questa è una squadra che io credo abbia tanti margini di miglioramento, soprattutto nella fase offensiva. dobbiamo migliorare anche certi aspetti nella fase difensiva, però questa squadra può migliorare tanto secondo me, tanto può migliorare. Per quello io alla squadra parlo, noi siamo focalizzati sul vincere, però per me è importante l'aspetto del miglioramento perché pensare di migliorare con questa squadra significa avere entusiasmo per finire la stagione e per giocare sempre meglio di quello che possiamo. C'è bisogno di tempo, soprattutto nei ragazzi giovani, quindi certo che un'altra stagione di percorso sarebbe importante.